Salve a tutti e ben ritrovati per questo nuovo video, oggi andremo a vedere una partita spettacolare di Robert James Fisher unico americano ad essere diventato campione del mondo nella storia degli scacchi in questa partita gioca all'attacco dall'inizio alla fine, un attacco colossale prima di iniziare ricordo a tutti di mettere mi piace, di iscrivervi al canale, grazie a tutti coloro che si stanno iscrivendo e iniziamo ok eccoci qui, siamo nel 1957 e il 14enne Bobby Fisher attira su di sé tutta l'attenzione del mondo scacchistico un talento eccezionale abbinato ad uno studio matto e disperatissimo in stile leopardi perché Fisher era ossessionato dagli scacchi qui affronta con i pezzi bianchi il maestro internazionale James Sherwin Fisher inizia con pedone 4, Sherwin gioca c5, difesa siciliana, Fisher continua con cavallo f3, siciliana aperta e Sherwin gioca pedone e6 rientriamo nella variante francese della difesa siciliana qui Fisher a sorpresa gioca pedone d3 con questa mossa intende chiaramente giocare l'attacco indiano ovvero pedone g3 al ferro g2 e arrocco poi c'è tutto un piano da seguire chiaramente però ecco la mossa d3 indica che Fisher vuole giocare l'attacco indiano l'apertura in sé è molto interessante e Fisher ci ha lasciato delle vere e proprie perle scacchistiche con questa apertura qui il nero continua con cavallo c6 Fisher gioca a punto pedone g3, prepara al ferro g2 Sherwin continua con cavallo f6, al ferro g2, al ferro e7, arrocco e arrocco entrambi mettono il re al sicuro ora l'obiettivo di questa apertura è quella di attaccare in qualche modo sul lato di re è molto simile alla difesa est indiana che viene giocata contro uno pedone d4 e la gioca il nero mentre in questo caso l'impianto lo gioca il bianco e può essere adottato in vari sistemi come ad esempio contro la difesa francese, contro la carocan in vari sistemi può essere utilizzato qui Fisher continua con cavallo d2, è tutto standard l'idea del bianco solitamente di giocare torre 1, cavallo f1, mosse come h4, h5 o anche cavallo h4 quindi di attaccare sul lato di re Sherwin continua con torre b8 idea molto interessante anche questa vuole giocare pedone b5 arriva torre 1 pedone d6 c3 da parte di Fisher e b6 Sherwin per qualche motivo non gioca pedone b5 ma gioca pedone b6 forse per rinforzare il pedone in c5 tuttavia questa mossa sembra una mossa un pochettino timida anche se la posizione rimane pari ma la mossa pedone b5 sicuramente è più ambiziosa di pedone b6 Fisher qui spinge il pedone in d4 controlla il centro Sherwin continua con donna c7 arriva pedone 5 ecco qui che l'attacco ha inizio Fisher attacca il cavallo in f6 Sherwin gioca cavallo d5 ma in questo modo lascia scoperto l'arrocco Fisher cattura il pedone in d6 segue alfiere per d6 e qui Fisher continua con cavallo e4 con questa mossa mette pressione sull'alfiere in d6 minaccia mosse come cavallo g5 per entrare ed attaccare sul lato di re l'alfiere come vedete può partecipare all'attacco la donna lo stesso ad esempio immaginatevi donna h5 quindi un sacco di pezzi del bianco possono attaccare anche la torre tramite manovre come torre e4 torre g4 ad esempio per attaccare sul lato di re il nero in realtà qui dovrebbe giocare sul lato di donna ecco perché la spinta pedone b5 però Sherwin non ha giocato pedone b5 qui continua con c4 mantiene chiuso il centro in un certo senso e Fisher cattura l'alfiere in d6 segue chiaramente donna per d6 e arriva a cavallo g5 il piano di Fisher qui è molto semplice vuole giocare donna h5 donna per h7 scacco matto oppure donna c2 donna per h7 scacco matto quindi ci sono vari modi per attaccare qui Sherwin gioca cavallo in e7 si deve difendere in qualche modo e cerca di portare i pezzi sul lato di re Fisher gioca donna c2 minaccia scacco matto in h7 Sherwin difende lo scacco matto con cavallo g6 e Fisher qui gioca h4 incredibile come tutte queste mosse fanno parte dell'attacco indiano ora Fisher qui ha veramente un attacco fortissimo guardate donna alfiere l'altro alfiere potrebbe partecipare volendo il pedone h che è fortissimo il cavallo che attacca h7 la torre che può partecipare insomma la partita sembra già finita dopo 17 mosse qui il nero gioca cavallo in f6 aumenta la difesa sul pedone in h7 porta un altro pezzo vicino al re per tenerlo al sicuro e qui Fisher gioca una mossa geniale che mette sotto shock il suo avversario Fisher esprime tutto il suo talento gioca cavallo per h7 decide di sacrificare un pezzo ovviamente il cavallo attacca la torre attacca il cavallo in f6 quindi deve essere accettato Sherwin cattura di cavallo arriva pedone h5 Fisher attacca il cavallo in g6 la sua idea è quella di rimuovere questo cavallo per poi venire in f4 con l'alfiere attaccare la donna attaccare la torre ora il cavallo sta difendendo f4 però chiaramente ora Fisher minaccia anche pedone per cavallo quindi Sherwin qui gioca cavallo h4 questa è la mossa migliore aveva altre scelte? sì ad esempio cavallo e7 però dopo alfiere f4 Fisher avrebbe attaccato la donna avrebbe attaccato la torre non c'è modo per la donna di difendere la torre quindi il bianco avrebbe guadagnato la torre qui ecco quindi che Sherwin qui gioca cavallo h4 questa è la mossa migliore mette pressione sull'alfiere in g2 Fisher continua con alfiere f4 comunque segue donna in d8 e qui Fisher giustamente non cattura la torre anche se la torre è in presa ma gioca pedone per cavallo non cattura la torre perché dopo ad esempio alfiere per torre poteva seguire cavallo per g2 e dopo re per g2 alfiere b7 scacco e il bianco avrebbe perso l'alfiere il nero sarebbe passato in vantaggio un pezzo in più quindi dopo donna d8 Fisher cattura il cavallo in h4 arriva torre b7 perché ora la torre era in presa quindi Sherwin in realtà la rimette in presa ma almeno in questo caso è difesa dall'alfiere in c8 Fisher continua il suo attacco con pedone h6 anche i pedoni talvolta possono attaccare ora il pedone attacca il pedone in g7 Sherwin qui cattura il pedone in h4 entra di donna attacca l'alfiere cerca anche di difendere il re in qualche modo e Fisher continua con pedone per g7 minaccia la torre in f8 Sherwin cattura di re ma guardate questo re ora è veramente molto vulnerabile anche se sembra che ci sia un po' di difesa perché un po' di pezzi del nero possono partecipare alla difesa qui Fisher continua con torre e 8 gioca un'altra mossa molto molto forte come vedete non perde tempo a catturare la torre in b7 altrimenti dopo alfiere per b7 qui il nero avrebbe minacciato scacco matto in h1 invece Fisher gioca torre e 4 attacca la donna a raggio x minaccia alfiere e 5 scacco e di catturare la donna in h4 donna h5 Sherwin sposta la donna torre e 3 Fisher vuole giocare mosse come torre g3 oppure torre h3 qui Sherwin è molto spaventato e gioca pedone f5 con pedone f5 chiude la diagonale alla donna e in più si crea qualche casa di fuga per il re tuttavia ha una posizione disperata qui Fisher continua con torre h3 attacca la donna la donna si sposta in e8 e Fisher gioca alfiere e 5 scacco come vedete Fisher ora non dà più tregua al re dell'avversario cavallo f6 per difendere donna d2 Fisher vuole giocare donna h6 scacco quindi Sherwin gioca re f7 cerca di scappare Fisher gioca donna g5 minaccia donna per cavallo arriva donna e7 per difendere il cavallo alfiere per f6 qui parte una combinazione micidiale da parte di Fisher donna per f6 torre h7 scacco re e8 e donna per f6 il bianco qui ha un grosso vantaggio ora il nero non cattura neanche la donna ma gioca torre per torre la donna di Fisher rimane in presa tuttavia dopo alfiere in c6 scacco qui il nero abbandona ora vediamo perché abbandona ma prima vediamo cosa succedeva ad esempio su torre per donna sarebbe seguito alfiere per torre e dopo alfiere per alfiere torre per alfiere Fisher sarebbe rimasto con una torre in più quindi Sherwin in partita gioca torre per h7 Fisher continua con alfiere c6 scacco e il nero abbandona perché abbandona? vediamo un po' alfiere d7 ad esempio donna per pedone scacco dato che l'alfiere è inchiodato re in d8 donna in d6 qui il bianco sarebbe rimasto con la donna per la torre un grosso vantaggio effettivamente anche perché il nero non può fare nulla per dare scacco matto ad esempio torre in g8 scacco re f1 torre h1 non si può fare perché l'alfiere cattura in h1 il bianco vuole sviluppare la torre in e1 e qui non c'è assolutamente niente che il nero possa fare l'attacco indiano è sicuramente un'apertura molto interessante ma vederla giocare da Fisher lo è ancora di più grazie a tutti per la visione di questo video vi ricordo di mettere mi piace ed iscrivervi al canale ciao e alla prossima